Vi racconto una storia, una storia triste. Era una domenica, cercavo un film della domenica, mi sono imbattuto in jackpot su Prime Video. Ma perché? Abbiamo visto il trailer. Non lo so, non lo so, perché? Quello con John Cena e Acquafina. La storia è questa, in un futuro prossimo, cioè questa cosa distopica mi intrigava, in un futuro prossimo, in America, la lotteria della California funziona in questo modo. Quando tu compri il biglietto, se vinci, ci sono 24 ore in cui gli altri che hanno acquistato il biglietto ti possono uccidere per prendersi il premio. Il jackpot è arrivato a una cifra astronomica per una serie di vicissitudini. Acquafina, la protagonista, che interpreta una giovane attrice wannabe che deve andare a fare un'audizione, si sporca un vestito, mette i vestiti della coinquilina che in tasca hanno un biglietto della lotteria e sono tipo digitali questi biglietti, con l'impronta digitale ti scrivi, sono una roba strana, conveniente, molto comoda per gli sceneggiatori. Lei si trova involontariamente a partecipare e quindi deve vivere queste 24 ore in cui tutti la vogliono ammazzare. John Cena ha un'agenzia che si occupa di proteggere, prendendo una percentuale sulla vittoria, quelli che hanno vinto la lotteria e quindi cerca di salvarla. Da un lato le scene d'azione sono action, è un action comedy, quindi le scene d'azione combinate a situazioni comiche, slapstick, eccetera, sono molto carine e ben pensate e congegnate. John Cena è bravissimo a fare il personaggio perché è molto simpatico. Infatti l'ho scelto per il mio Dolphin's Delight. Esatto, ottima scelta. Acqua Fina è anche molto simpatica, tutto il resto è molto Paul Figg, il regista, già regista del famoso Ghostbusters, quello brutto, non brutto perché ci sono le donne, ma perché è diretto da Paul Figg. No, 18? 18, sì. Quindi ci sono dei personaggi tipo la coinquilina che sono irritanti, non perché debbano essere irritanti, ma perché c'è un umorismo che non sta in piedi, che non è... non lo so, che a me non fa ridere, magari a qualcuno fa ridere. E quindi ci sono ogni tanto alcuni personaggi che sono irritantemente fastidiosi e alcune situazioni che non funzionano. Sono riuscito ad arrivare in fondo, ma per John Cena e Acqua Fina, che sono bravi e le coreografie, le scene d'azione sono carine, non lo consiglierei. Il voto è insufficiente, però non è colpa di John Cena e nemmeno di Acqua Fina. Ok. Quindi va bene così, sono sopravvissuto, mi sono preso questa pallottola per voi. È uno di quei film della domenica che non riescono neanche a fare il giro. E quello è il problema, perché quando è così tu speri che faccia il giro e dici me lo sono goduto, no? No, no. È stato un disastro, è stato un disastro.